Gli incidenti stradali in città restano numericamente troppo alti, in lieve aumento rispetto al 2021. A dirlo il comandante della polizia locale Gioni Biagioni, che al microfono di Telesardegna ha fatto un punto sul fenomeno del capoluogo. Nei primi tre mesi del 2022 la media mensile dei sinistri si attesta intorno ai 15, prevalentemente con soli danni alle cose e nessuno mortale. I feriti vanno dai 7 del mese di febbraio all'unico caso di marzo. Quattro volte a febbraio gli incidenti hanno coinvolto anche pedoni. La fascia d'età maggiormente coinvolta è quella dai 47 ai 62 anni. La più virtuosa è invece quella dei giovani dai 14 ai 30. E la principale causa dei sinistri è sempre la stessa da tempo, la distrazione. Notiamo una sorta di aumento della distrazione nella conduzione dei veicoli da parte delle persone. Richiamo i cittadini a una maggiore attenzione perché purtroppo le conseguenze di un incidente non ce ne rendiamo conto subito. Ma poi ce ne rendiamo conto dopo che sono piuttosto importanti. E sui numerosi cantieri aperti in città, le cui competenze ricadono sull'amministrazione comunale, la Polizia Municipale rassicura i cittadini. Io mi immagino la città di Nuoro in questo momento come un cantiere aperto, ma come una casa dove facciamo delle opere di abbellimento, delle opere di miglioramento che inizialmente creano disagi ma poi sicuramente coglieremo i frutti di questi lavori. Grazie. Grazie. Grazie.